Ci sono state delle novità in questi ultimi giorni perché la vediamo al fianco di Gino Spolito. Insomma, fino adesso non è che fosse corso buon sangue, se possiamo dire. A me non pare che non sia corso buon sangue. A me pare che si sia sempre parlato di costruzione unitaria nell'interesse di Praia. E mi pare che a questo progetto si sia sempre collaborato cercando di arrivare a una mediazione che potesse essere quella più giusta e serena nell'interesse di tutti i praiesi. Noi stiamo costruendo nell'interesse di Praia un programma unitario e condiviso come ho sostenuto e sosterrò fino alla fine di questa campagna elettorale. E vogliamo fare politica in maniera seria, in maniera diversa, partendo appunto dai cittadini e condividendo le nostre idee con i cittadini. Gino ci offre la sua esperienza, possiamo solo ringraziarlo per questo, e la sua chiaramente conoscenza dei fatti di Praia. Per cui sarà il nostro coordinatore, coordinatore delle idee e delle volentà che gli stessi cittadini vorranno esprimere. Cosa vuol dire essere coordinatore delle idee? Voglio essere coordinatore delle volontà della gente di Praia. C'è una volontà che serpeggia, ed è un brutto termine, da moltissimi anni, che è quella di un ricambio, di un risorgimento della democrazia e della libertà e di un progresso più civile, più sociale di tutta Praia a Mare. Ecco, io questo penso di aver interpretato negli ultimi tempi e questo è quello che voglio fare. Non è vero che non abbiamo mai in questi ultimi tempi dialogato io e tutti i gruppi che hanno già partecipato con Norina fino ad adesso alla costruzione di una lista unica. Se non erro, questa nel giro da novembre a oggi, in tre mesi dovrebbe essere la sesta, settima volta che ci siamo incontrati fino a ieri per poter costruire tutto questo. Ci siamo arrivati, abbiamo superato distanze, soprattutto io, distanze di volontà personali, di rivincite, di qualcosa che appariva agli occhi dei più come personalistiche. Ho voluto, a tutti i costi, spinto dai miei amici, superare tutto questo e mettermi a servizio della gente di Praia e di Norina Scorza, che con volontà, e non lo nascondo, non da oggi, ma da cinque anni sta pensando e lavorando per un risorgimento praiese. E abbiamo anche chiesto a Spolitu cosa volesse intendere con la frase similmafia di un potere economico commerciale concentrato in un solo gruppo societario, frase proferita nel comizio di sabato scorso, riportata anche sui giornali e che sembrava sottintendere il polo aziendale della famiglia De Rosa. Quello dichiarato alle 9.20, quando ho letto che qualche giornale abbia voluto travisare, spero non apposta, ma qualche dubbio rimane, è quello che io avevo detto in quel comizio e non mi pare che in quel comizio, a meno che qualcuno voglia ascoltare cose che non ho detto, se proprio vogliono immaginare quello, lo immaginano pure. Anzi, alle 9.20 di ieri mattina ho fatto un post su Facebook con la mia faccia, dove io matto sempre la mia faccia quando dichiaro qualcosa, ho dichiarato che, e lo ricontinuo a dichiarare anche oggi, che rispetto e che sono onorato di avere a Praia e a Mare imprenditori come Giorgio e Stefano De Rosa. Uno è che non ci parli più di queste storie, che non ho mai dichiarato che Giorgio De Rosa o le loro aziende, o Stefano De Rosa o le loro famiglie possono essere associate a similmafia. Quando parlavo di similmafia, io parlavo di un tipo di amministrazione, di un tipo, di un metodo oscurantista, alla quale io mi riferivo, che può essere ad esempio, ma ad esempio, un'amministrazione comunale che oscura tutto e che porta soltanto a quel tipo di discussione. Basta, l'ho detto, qualcuno ha voluto mettere in mezzo tutto, ha messo in mezzo anche Norina, tutte queste cose qua. Io non l'ho mai detto, non mi sogno di dirlo. Chiedo scusa, anzi, se ho permesso a qualcuno di poter pensare una cosa del genere, con la mia faccia chiedo ancora umilmente scusa. Ma è Norina scorza a chiudere l'intervista con un augurio che fa da sigillo su questa nuova alleanza. Il venerdì c'è il quarto incontro alle ore 19 all'Hotel dei Platani, sempre per raccogliere le idee, sempre per lavorare insieme, sempre per crescere insieme. E poi posso concludere con il mio nuovo saluto, coniato perché mi è venuto spontaneo e perché ritengo che sia anche bello. E viva Praia, e viva la Praia laboriosa, la Praia che vuole crescere, che vuole vincere e che vuole far ritornare il sole per tutto l'anno. Grazie a tutti.